È meraviglioso, intanto è uno spazio stupendo, è ricchissimo, è uno dei musei più belli che abbia mai visto, quindi ci vuole tanto tempo per vederlo e sono veramente curioso. C'è tutta la storia del design, sono ovviamente orgoglioso, felicissimo di essere qua a rappresentare la Ferrari con i tre progetti che hanno vinto il compasso d'oro, la FX-SK, la F12 Berlinetta e di recente la Monza che è qua dietro di me. Quindi cosa posso dire? Che è un orgoglio, una grande soddisfazione e grande felicità.